L'Italia è in balia del coronavirus. Solo così può essere descritta la situazione che sta attraversando il nostro paese, vista la tanta paura e la psicosi che comporta il virus cinese. La situazione in Italia al momento è palesemente complicata. Siamo il terzo paese al mondo per contagi che ora hanno superato quota 200. Il nord Italia è per buona parte isolato. Le vittime sono salite a quattro e la gente prende d'assedio i presidi ospedalieri e supermercati in preda alla paura di aver contratto il virus. Intanto, negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, messi in isolamento, il governo ha disposto all'attuazione di varchi con anessi uomini a controllare le aree. Al sud e nel Cilento la situazione è migliore, ma la gente ha paura. Annulate tutte le gite scolastiche, mentre le amministrazioni locali e quelle sanitarie hanno cominciato a predisporre tutte le misure necessarie per evitare contagi e sono già state attuate. Infatti, il protocollo di sicurezza nel Cilento è stato attuato per due famiglie, una di Camerota e una di Buccino. In entrambe c'era stata la presenza in uno dei focolai londigiani, ovvero Codogno, quindi è stata disposta la quarantena. Le varie amministrazioni locali invitano chi torna dal nord a contattare le autorità per informarle e di utilizzare il numero verde regionale 890 96 99, attivato tutti i giorni dalle 8 alle 20. Il personale sanitario risponderà per fornire indicazioni, tuttavia in caso di dubbi il servizio è a disposizione anche per informazioni di merito.